Greg, quando mangiamo? Non lo so, appena arrivano. Chiava un po' la fantastica cameriera che... Ciao! Buongiorno! Ciao! Cosa mangiate? Cosa c'è la mangiata? Oggi abbiamo come antipasti crudo in mozzarella, caprese, insalata di pasta, gnocchi in burro e saggia, bistecca o salsiccia alla piastra, con patatine fritte oppure degli affrettati misti. Allora, Mariolino, io vado con un antipasto e con un secondo. Io ho gnocchi, burro e salvie, e poi soprattutto camoscio in umido. Abbiamo una Coca-Cola freschissima con ghiaccio e limone. Due, due, due. Sì, sembra che ci piace tanto perché fa caldo. Ma guarda che ruffiano che sei, alberto, sei terribile. Fa freddo e ci vuole il giacchone. Va bene, quindi due, due? Due Coca-Cola. Due Coca-Cola, ghiaccio e limone. Ok. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Anche a te, grazie.